E' stata inaugurata ai musei civici di Palazzo Mosca la mostra Spazio a Tempo dell'artista emiliano Olivo Barbieri. L'esposizione, inserita nell'offerta di Pesaro 2024, offre una selezione del lavoro di Barbieri che tra il 2003 e il 2023, servendosi di elicotteri, si è dedicato all'osservazione delle città del mondo e allo studio delle possibili rappresentazioni della città contemporanea, riflettendo sulla natura e sulla percezione delle città del XXI secolo. Spazio a Tempo ripercorre cronologicamente vent'anni di ricerca sulle forme architettoniche di più di 60 città come Roma, Shanghai, Las Vegas, Siviglia, Bangkok, Los Angeles, città del Messico, Istanbul, Brasilia o Tel Aviv. Spazio a Tempo è un racconto della forma della città contemporanea. Sono più di 60 città fotografate e filmate da elicotteri. L'idea appunto è quella di restituire in un luogo come Pesaro, vicinissimo a un'opera d'arte famosissima come la città ideale attribuita a Piero della Francesca, un'idea più contemporanea e più aggiornata di quello che sono i nostri desideri del vivere in una città. Il progetto nasce appunto vent'anni fa cercando di capire, dopo il crollo delle torri gemelle, in quali le città fossero diventate dei luoghi minacciosi o pericolosi. È un tentativo di riconciliazione con la nostra contemporaneità questo progetto. La mostra, che sarà aperta fino al 15 settembre, è stata presentata oggi nella sede di Via San Francesco di Riviera Banca, special partner dell'esposizione artistica. Pesaro è proprio la città che ha tutti i requisiti per essere, per rientrare nella città ideale, con la cultura, i paesaggi, la musica, l'ambiente, le bellezze e l'arte. È un valore della nostra banca, la cultura, insieme alla prevenzione e cura della salute, insieme al sostegno dei giovani, insieme alla mutualità molto sentita.